Mi raccomando ragazzi, supportate al massimo questa nuova serie e ascoltate i primi minuti per capire le regole appunto di questa nuova serie. Spero ovviamente vi piazza, lasciate un mi piace, mi raccomando, cerchiamo di arrivare a 2000, adesso vi lascio il video, buona visione. Salve a tutti ragazzi, sono Sam Primemez e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo qui con una nuovissima serie dedicata alla carriera allenatore e non solo perché oggi in questo video saranno protagoniste le figurine Calciatori Panini, FIFA 365 ragazzi. Di cosa sto parlando? Dell'ultimo album uscito in edicola della Panini, ovvero FIFA 365, dove all'interno di questo album sono racchiuse le migliori squadre del mondo e ovviamente i loro calciatori. Come potete vedere dalla schermata ragazzi, all'interno di questo album ci sono le migliori squadre come il Manchester City, l'Atletico Madrid, il Barcelona, Real Madrid, Valencia, Monaco, Paris Saint Germain, Bayern, Borussia, c'è anche l'Inter, la Juventus, il Porto, un po' le migliori squadre del mondo. Chiaramente ragazzi anche tutte quelle che hanno lasciato i diritti e per questo si spiega che molte squadre inglesi, per esempio il Chelsea, lo United, non ci sono. Comunque ragazzi, come si svolgerà questa serie? Come avete visto ci sono circa 22 squadre, togliendo quelle brasiliane che come ben sapete in FIFA non hanno i diritti, ci sono 20 squadre. Io pensavo di andare a fare una carriera allenatore con ogni squadra. Come svilupperò questa serie ragazzi? Andrò ad aprire 6 pacchetti di FIFA 365. All'interno del primo pacchetto sceglierò con che squadra partire con la carriera allenatore. Andremo a scegliere la squadra, a quel punto apriremo altri 5 pacchetti e all'interno di questi 5 pacchetti cercheremo per ogni pacchetto chiaramente un calciatore interessante per la carriera allenatore da andare ad acquistare. A quel punto, una volta acquistati questi 5 calciatori, si va a simulare tutta la stagione e si va a vedere come ci si è posizionati. E alla fine, tra tutte queste squadre che sono all'interno dell'album, uscirà una classifica. Chi si posizionerà più avanti, chi si posizionerà più indietro. Spero di essere stato chiaro, ma si capirà sicuramente molto meglio guardando tutto questo video. Lasciate un bel mi piace, mi raccomando ragazzi, sostenete la serie, ma soprattutto mi aspetto da voi sotto nei commenti tanti 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 consigli per cercare di migliorare questa serie anche nei prossimi episodi. In ogni caso, buttiamoci all'interno della sfida signori e andiamo a vedere come funziona. Allora, vado ad aprire subito il pacchettone ragazzi. So già che me lo chiederete. Una bustina costa 70 centesimi in edicola. Ok, super pacco aperto. Vado ad aprire il pacco. Che detto così, fa un po' strano. Ecco qua le bustine raga. Bellissime, bellissime. Guardate un po' che belle. Ne vado a prendere sei, che manco farla apposta. Uno, due, tre, quattro, sì. Sei ragazzi. Le ho già prese e le vado ad aprire. Quindi ci vediamo nella schermata di sotto. Dal primo pacchetto ragazzi si deciderà che squadra scegliere per appunto questa carriera allenatore. Andiamo a vedere un po' chi c'è all'interno di questi pacchettini qui. E abbiamo subito Madson, giocatore del Gremio. Cerishev del Valencia. Amadou Diavara del Napoli. E Carlos Soler del Valencia. Abbiamo anche Dries Mertens del Napoli, signori. Questa bella figurina oro. A questo punto, ragazzi, visto che abbiamo trovato due giocatori del Napoli. Abbiamo trovato anche due giocatori del Valencia. Ma abbiamo trovato due giocatori del Napoli di cui un oro. Direi che la prima carriera allenatore si può fare con il Napoli. Allora, signori, andiamo subito dentro con FIFA. E andiamo subito, subito, subito a scegliere la squadra. Ovvero il Napoli. Eccoci qua. Andiamo. Qui non è importante, ragazzi, tutti questi dati. Io devo fare calciomercato con i giocatori che troverò all'interno di queste bustine. Nel frattempo che tutto si carica, ragazzi, vado ad aprire il primo pacchetto all'interno del quale troveremo il nostro primo acquisto. Andiamo un po' ad aprirlo. Abbiamo Verdi, un altro giocatore del Napoli, ragazzi. Quindi chiaramente non potrà essere lui il nostro acquisto. Attenzione, perché abbiamo anche Nacho del Real Madrid. Lui potrebbe essere sicuramente un nostro acquisto. Abbiamo anche Valide Soliman dell'Al Ali, dovrebbe essere, ragazzi. Abbiamo un altro giocatore dell'Al Ali, ragazzi, ovvero Mohamed Hani. E Mauro Icardi, non ci posso credere. Non ci posso credere, ragazzi. Tutto ciò potrebbe diventare veramente, ma veramente interessante. E la prima carriera potrebbe mettersi già benissimo. Dovremmo acquistare a questo punto, ragazzi, uno di questi quattro giocatori. Andiamo su FIFA e vediamo se ci riusciamo, ragazzi. Alla fine ne dobbiamo acquistare cinque. È forse rischioso? Comprare subito Mauro Icardi, ragazzi? Non lo so. Dovremmo provare a vendere anche qualcun altro. Ok, ragazzi, ci arriva la prima offerta di questa carriera. E ce la fa il Buenos Aires. Un'offerta di 12 milioni per Maximovic, quasi 13. Ne posso chiedere 17. E onestamente vado a trattare, ragazzi. Cercherò di alzare l'offerta per guadagnarci di più. Altra offerta, ragazzi. Ounas. 9.600.000 è la richiesta massima. Loro ce ne chiedono... Loro ce ne offrono, scusate, 6.600. Quindi 3 milioni potrebbero fare veramente, ma veramente la differenza. Arrivano offerte del trasferimento anche per Diavara, ragazzi. Io le sto trattando tutte e poi vi farò vedere come vanno a finire. 22 milioni è la richiesta massima. Che possiamo fare? Penso che andrò a chiedere questa cifra. Ricordo, ragazzi, che di questo pacchetto possiamo acquistare solamente un giocatore. E gli altri li prenderemo dagli altri pacchetti. A questo punto ho inserito Icardi nel nostro hub mercato. Continuiamo l'Inter per l'acquisto. È rischioso, veramente rischioso, ragazzi. Perché rischeremo di finire il budget. Probabilmente proverò uno scambio. Allora, facciamo questo scambio attaccanti. E gli diamo, ragazzi, Milik. Vediamo un po'. Sono interessati, ma vogliono 100 milioni. Più Milik. Stanno abbassando parecchio, raga. Però non avrà i soldi per fargli il contratto. E questo è... Troppo pesante. Proviamo ad andare sui 70 milioni. Gli serve del tempo per riflettere. Allora, ragazzi, io Nacio e Icardi li tengo qui in disparte. Gli altri li mettiamo via per non fare confusione. E vado ad aprire il secondo pacchetto. Per vedere che altri giocatori dovremmo o potremmo comunque acquistare. Vabbè, oggi è la giornata del Valencia, ragazzi. Abbiamo Juan Fran dell'Atletico Madrid. La divisa del PSV. Rakitic del Barcellona. E Irving Lozano del PSV, ragazzi. Si fa veramente, ma veramente complicatissima la faccenda qua. Ok, ragazzi. Tendere ad escludere Rakitic. Costa veramente, ma veramente troppo. Potrei provare a fare uno scambio con Irving Lozano. Vediamo se magari mi accettano Verdi o forse qualcun altro. Dai, raga, no. Difensore centrale, Ala o terzino. Cavolo, non siete interessati a Verdi? Proviamo un altro giocatore. Ho Insigne, Unassi, Ones. Proviamo Caglion. Dai, alla fine c'ha anche 31 anni. Non sono interessati. Va bene. Sono interessati a Mario Rui, ma 36 milioni sono veramente, ma veramente troppi, raga. Quindi per il momento terminiamo la trattativa. Ok, ragazzi. Diavara venduto per 19 milioni e 800 ce ne entrano 16. Abbiamo venduto anche Maximovic per 15 milioni e 300 ce ne entrano 12 e 500. Offerta per Kirikis di 10 milioni e 400 da parte del Fenerbahce. Potrei chiederne qualcuno in più. E in questa serie ogni milione è prezioso. Perfetto, ragazzi. Adesso che abbiamo venduto qualcuno possiamo andare a trattare la controofferta dell'Inter di 77 milioni più Milik. Andiamo a trattare e cerchiamo di portarci a casa Mauro Icardi. Sarebbe veramente una partenza top per questo Napoli. Comprare Icardi. I soldi li abbiamo, quindi facciamo una nuova offerta per il cartellino. Ne chiediamo 74 milioni più Milik. Dai. 77,500 ragazzi. Io non andrei a rischiare di perderlo. Preso Mauro Icardi. Andiamo a fargli il contratto in tutta velocità. Andiamo a trattare, ragazzi. E poi probabilmente vedremo Mauro Icardi con la maglia azzurra del Napoli. E mi farebbe veramente, ma veramente strano. 140 mila di stipendio più 2 milioni di bonus d'ingaggio. Signori, Mauro Icardi è un giocatore del Napoli. Grande partenza. Il primo blocco, il primo pacchetto è andato. Abbiamo preso Mauro Icardi invece che Nacio. Scusate ma non potevo perdere questa occasione. A questo punto ci dobbiamo concentrare, direi, su o Juan Fran o Lozano. Ragazzi, Rakitic lo metto via per carità perché non me lo posso permettere. Nel frattempo vado ad aprire anche il terzo pacchetto per vedere cosa ci aspetta anche il prossimo acquisto che dobbiamo fare. Chi dobbiamo cedere e come dobbiamo muoverci sul mercato. Maglietta del Real Madrid, signori. Abbiamo poi Abubakar. Vincent Abubakar del Porto. Maglietta del Corinthians. Lo stemma dell'Inter. E abbiamo Daniel Subasic. Daniel Subasic, ragazzi. Attenzione perché qui siamo un po' ristretti. Siamo un po' ristretti perché anche qui possiamo acquistare solamente due giocatori. Ovvero Abubakar, eccolo qui lo vedete, e Subasic. Andiamo ad aggiungerli al lab mercato. Eccoci qui ragazzi per Subasic tra i 16 e i 22 milioni, per Abubakar tra i 21 e i 32. La vedo dura, proviamo a buttarci su Subasic. Vediamo un po' se possiamo fare scambio di portieri, ragazzi. Abbiamo Meret o Carnesis. Vediamo Carnesis. Sono interessati a Carnesis, 14 milioni. Avrei potuto mettere Meret, forse. Facciamo una controfferta e gli offriamo 8 milioni. Ci devono ancora entrare qualche cessione comunque, quindi non è ancora tutto perduto. 10 milioni, ci stiamo avvicinando, raga. Ci stiamo avvicinando. Io farei 9 milioni e 500, anzi. 9 milioni e 700 per Subasic, dai. Speriamo bene perché sarebbe importante. Non abbiamo speso neanche troppo, raga. Perfetto signori, anche Daniel Subasic è preso. E abbiamo concluso anche il secondo blocco di acquisti. Due acquisti su cinque, signori. Ovvero Mauro Riccardi e Subasic. Neanche farlo apposta, i due oro. Ok ragazzi, abbiamo ancora questo blocco da concludere, ma andiamo con il penultimo pacco. Abbiamo Grand Seer del Monaco. E quando si trovano questi giocatori che possono essere interessanti e magari costare anche poco, le cose si mettono un pochettino meglio. Abbiamo Marco Asensio del Real Madrid inarrivabile, ragazzi. CDB, terzino del Monaco anch'esso. Abbiamo anche Naitan Nandes del Bocai Junior. E Carlos Tevez. Carlos Tevez, ragazzi. Sarebbe veramente un colpo strano, Tevez. Qui abbiamo dei bei giocatori, raga. Qui abbiamo dei bei giocatori da poter prendere. Ho un As venduto. Ci entrano 6 milioni, raga. Offerta per Albiol. Il Liverpool. 31 milioni. Andiamolo a trattare, ragazzi. Ci può chiedere fino a 31 milioni per Albiol. Mamma mia, 32 milioni, ho chiesto. L'hanno accettata questa offerta. Il Liverpool è pronto a pagarci 32 milioni per Albiol. Stavo dicendo, signori. Mi riferisco a tutti i tifosi napoletani, ragazzi, che magari tengono in particolar modo a questi calciatori. Lo sto facendo solo per la serie. Se dovessi fare una carriera natura con il Napoli, questi giocatori probabilmente non li andrei mai a vendere. Chi riche è svenduto? Ci entrano 10 milioni, raga. Offerta per il prestito di ROG che onestamente rifiuto. Ok, ragazzi. Venduto Albiol, 28 milioni e 500. Ci entrano e c'è anche un'offerta di 60 milioni per Amsic. Però io chiedo 90 milioni e se me li danno tutto ok. Rifiutano anche loro. Adesso concentriamoci un attimo sui nostri di acquisti, raga. Perché abbiamo almeno un blocco da chiudere. Ed è questo. Contattiamo nuovamente Irving Lozano per l'acquisto, signori. Potrei spendere molto meno prendendo 1 franc, ma vorrei assolutamente prendere Lozano. 43 milioni e 500 è l'offerta massima che posso fare, raga. È un'offerta allettante, accettabile. Non so cosa hanno scritto. Andiamo a trattare, raga. Stiamo facendo veramente un sacco di cose. Perfetto, signori. Andiamo ad accettare questa offerta che ci fa Lozano. E chiudiamo anche il terzo blocco. Mauro Riccardi, Subasic e Lozano sono nuovi giocatori del Napoli. Ci restano 13 milioni, raga. Con i quali penso andremo a prendere uno tra Grand Zeer e Nandes. Perché CDB costa una valanga. Il giocatore si è appena trasferito. E mi sono bruciato un giocatore, ragazzi, che costava veramente, ma veramente poco. A questo punto mi... No, il giocatore si è appena trasferito. E mo' so cazzi. CDB costa una valanga. Dobbiamo andare assolutamente su Nandes, raga. Centrocampista, CDC e esterno-destro. Contattiamolo per... No, iniziamo la trattativa, raga. 6 milioni, raga, accetto. Raga, accetto perché se no questo blocco faccio fatica a chiuderlo. Vado ad accettare, raga, e chiudo il blocco. Accetto e chiudo il blocco. Altro acquisto, signori, che potrebbe essere interessante per le vostre carriere. Il buon Nandes. E quindi, quarto blocco chiuso, signori. Quarto blocco chiuso. Con Nandes. Quindi per il momento Lozano, Nandes, Icardi e Subasiz. E vado ad aprire l'ultimo pacchetto. Che costituisce l'ultimo blocco, chiaramente, di questo video. Altro giocatore del Monaco. Andrea Raggi. Potrebbe esserci utile, raga, perché secondo me Raggi non costa tanto. Abbiamo Jonatas del Corinthians. Blaise Matuidi della Juventus. Santimina del Valencia, scusatemi. Eccolo qua. E anche Maikon del Gremio. Paradossalmente, con tratto di scadenza fra 12 mesi, Andrea Raggi sarebbe l'acquisto perfetto. Perché non ho un difensore centrale, non ho più un difensore centrale. Santimina si è appena trasferito al Manchester United, raga. Spero di non dover buttare tutto su Matuidi. Sarebbe veramente devastante, perché vale tantissimo. Io andrei tutto su Raggi, vi dico la verità. Andrei tutto su Raggi. Per chiudere al meglio questo blocco. Almeno abbiamo un difensore centrale e non simuliamo tutte le partite senza difensore centrale. Ragazzi, non ho la più palida idea di quanto possa costare Raggi. 4 milioni, cioè, boh, non lo so. Sono soddisfatti. Chissà quanto costava, 2 milioni forse Raggi, non mi interessa. Perfetto, signori. Abbiamo preso anche Raggi. E abbiamo concluso così anche l'ultimo blocco di 5 acquisti. Eccoli qua, ragazzi. Li vedete qua sotto. Abbiamo preso Subasic, Raggi, Icardi, Nandes e Lozano. Abbiamo fatto veramente, ma veramente, un grande mercato, raga. Guardate un po'. Perfetto, ragazzi. Questa è la squadra con la quale andremo a simulare tutto il nostro campionato con i nostri 5 acquisti. Subasic, Raggi, Nandes, Icardi e Lozano. Perfetto, raga. Io simulerei fino a questa partita contro il Liverpool, ovvero l'ultima partita di Champions League, giusto per andare a vedere più o meno come siamo messi. Eccoci qua, raga. Ultima sfida di Champions per quanto riguarda i gironi. Ed è fondamentale perché siamo a pari punti con il PSG, signori. Andiamo a simulare questa partita. Ha segnato Icardi, ha pareggiato Salah, signori. Con questo risultato dovremmo sperare in un passo falso del Paris Saint-Germain. 2-1. 2-1 del Liverpool. Finita, signori. Finita. Il PSG batte il Cork City. Andiamo in Europa League. Perfetto, signori. Ho simulato tutto. Andiamo a vedere come siamo messi in campionato. Uuuuh, ragazzi! Secondi! Secondi a 7 punti dal Milan. Tanta ma tanta roba, raga. Siamo tornati in Champions. Ci siamo riguadagnati. Il posto Champions, raga, voglio andare a vedere anche le altre competizioni come sono andate. Noi siamo stati lineati agli ottavi. Agli ottavi. La squadra Lazio vince per i gol in trasferta. Non ci posso credere. L'andata è finita 1-1 e il ritorno 0-0. Siamo usciti agli ottavi di Europa League. Coppa Italia con la Roma campione. Semifinali. Uuuuh, no! Abbiamo perso in semifinale contro la Roma, raga. Le due romane ci hanno buttato fuori dalle competizioni europee e dalla Coppa Italia. Però siamo arrivati ai secondi. Ci siamo guadagnati il secondo posto con 77 punti. e ci andiamo a inserire in classifica proprio secondi con 77 punti. Allora, Mauro Riccardi ha chiuso con 12 gol, 1 assist. Molto bene, ma il capo cannoniere della squadra è Mertens con 22 gol. Lozano 0 gol, signori, ma 2 assist. Mentre Nandez ha fatto 1 gol. Raggi 1 assist. Direi che comunque se la sono cavata bene. E me la sono cavata bene anche io, ragazzi. Il primo episodio finisce qui. Spero ovviamente che vi sia piaciuta questa serie, ragazzi. Sotto nei commenti fatemi sapere qualche piccolo consiglio per migliorarla. Chiaramente non vado a giocare nessuna partita perché il video probabilmente durerà un pochettino, dai 15 minuti più o meno, ma io sto già resistendo da un'oretta. Quindi se mi mettessi anche a giocare le partite sarebbe, secondo me, controproducente. Come detto, se vi va condividete il video, lasciate un mi piace, un commento, un consiglio. Signori, noi ci vediamo al prossimo video. Sotto la mezza prossima. Ciao a tutti, ragazzi.